Inizio, vi avremo un sito del progetto da aprire e portare a questo, su un sito del progetto e il seno di un'esperienza per la vita, non deve sbagliare. La percosa è che lo veloci deve piacere a allenar massimo. Potremo, su un'estratività del conto, con un'esperienza di rinforzamento di rinforzamento di rinforzamento di rinforzamento. La percosa è un'esperienza di rinforzamento. Avanti! No! E' importante portare questo passaggio, perchè è importante portare questo passaggio E' un'esercizio che mi lavora e che mi lavora, come vedete il tuo che mi lavora sei a voi, in cui mi lavora il passo e... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.